Allora, visto che i tempi sono stretti, andiamo al sodo. Non abbiamo mai avuto così tanti voti. Siamo tornati al centro della politica nazionale. Stiamo registrando una crescita del 30% dei tesserati. Tutto questo lo dobbiamo a Matteo Salvini. Abbiamo vissuto momenti difficili, adesso stiamo abbastanza bene e quindi è il momento di sfruttare questa fase per perfezionare la macchina della Lega, perché ovviamente qualcosina non va. Al Congresso tutte le teorie politiche le lascio ad altri. Da segretario provinciale sfrutto l'occasione per mettere i puntini su alcune questioni. Uno, abbiamo le casse vuote. Sono stati chiusi il giornale, la televisione, la radio in difficoltà. Ci sono 70 dipendenti in cassa integrazione. Nonostante questo, abbiamo ancora oggi qualcuno che ricopre incarichi importanti, incarichi in società, incarichi in enti che se ne frega del movimento e non un'euro. Fortunatamente con Grimoldi è stata presa in mano la situazione. Però fa male sentire ancora oggi, non lo dico a caso, ancora oggi qualcuno, qualche megadirettore o presidente di grandi società, dire non me ne frega niente di dare una mano alla Lega, tanto io sono amico di questo o di quello e la rinomina l'avrò lo stesso. Quindi la richiesta non si può presentare un documento, ma per me il valore della platea vale molto di più. Possiamo, chiedo a voi, possiamo gentilmente a chi non dà volontariamente un euro al movimento pur avendo benefici più finiti dargli un calcio in culo, chiunque esso sia. Questo è averbale. Presidente, Presidente, scusi Guido, questo è averbale. Punto due, possiamo regalare un po' di riconoscenza e gratitudine ai militanti, magari togliendo un po' di spazio ai leccaculi. Allora, a Bergamo facciamo 33 feste, 33 feste l'anno. Chi le fa? I militanti. Chi prende le ferie per smontare e montare? I militanti. Chi sta in cucina quando ci sono 30 gradi d'estate? I militanti. Chi sta a pulire i tavoli? I militanti. E allora, perché quando arriva Salvini c'è la corsa di parlamentari e consiglieri regionali a mettersi al tavolo insieme a lui? Noi abbiamo stabilito una cosa, alle feste, al tavolo con Salvini, ci vanno i militanti che lavorano alla festa. È la richiesta che facciamo. Perché? Perché un militante vive di entusiasmo. Passare mezz'ora insieme a fianco al suo leader, al suo mito, al suo idolo, è una benzina che lo fa lavorare un anno intero. Quindi, parlamentari e consiglieri regionali, con tutta gentilezza. Voi Salvini ve lo potete vedere, quando lo potete incontrare, quando volete. Non rubate l'unica possibilità che ha un militante di sedergli a fianco. Lasciategli questa benedetta cena e non è un caso, è un esempio, ma il modulativo è quello. Umiltà, signori miei, umiltà ci vuole nella Lega. Punto 3. Sono veloce, tranquillo. L'esempio deve arrivare dall'alto, non ci stancheremo mai di dirlo. Quindi noi siamo più tolleranti verso il militante, semplice, che fa una critica, mentre siamo inflessibili verso chi ha delle responsabilità importanti, ricopre cariche importanti e che fa qualche cazzata. Noi abbiamo, noi, la Lega, nella sua storia, anche recente, ha buttato fuori, ha espulso militanti semplici perché hanno fatto un post di critica su Facebook magari visto da 50 amici. Ma noi non abbiamo fatto. Mentre chi ha approfittato del movimento, della carica che ricopriva, ad esempio, in regione, dando incarichi da 196 mila euro, 196 mila euro al genero, oggi potrebbe rifare ancora la tessera perché non l'abbiamo buttato fuori. Quindi noi non possiamo stangare il semplice militante e invece chi fa sceneggiate napoletane per pura visibilità. Chi non è tempera, non rispetta la linea politica del movimento e quindi mette in crisi e in imbarazzo la Lega e in primo Matteo Salvini, niente. Noi chiediamo che venga adottata la stessa linea. Ripeto, il significato è umiltà, sbassai arie, tutti in squadra verso la Lega, non fare i fighi. Ultima cosa e poi chiudo. Ho visto con piacere questo manifesto, questo tabellone che è lo slogan del congresso. Chi vive la Lega da più di vent'anni è entrato nel movimento con la voglia di dare battaglia al centralismo mosso dalla voglia di autonomia e libertà. Siamo a un passo da un traguardo storico che è il referendum per l'autonomia della Lombardia, però finora, siamo sinceri, se ne è sentito parlare più di tanto. È la battaglia storica della Lega questa. Mancano 5 o 6 mesi. Quindi o da oggi, e grazie a questo manifesto, si parte tutti convinti verso una campagna elettorale referendaria pesantissima, tutti in trincea o altrimenti lasciamo perdere. O da oggi mettiamo il messaggio al centro del nostro messaggio politico, la Lombardia è statuto speciale oppure piantiamola lì. Stare in mezzo, come succede adesso, è la peggior cosa. detto questo, chiediamo Matteo, Paolo, Roberto, Umberto, Giancarlo, Roberto e Piedouine, che Bergamo c'è e ci sarà sempre con il cuore, ma con il cuore chiediamo non toglieteci il sogno della libertà, non toglieteci il sogno dell'indipendenza, non toglieteci il sogno di vivere, di far vivere ai nostri figli un domani in una padagna libera e indipendente. le strade sono tante e noi le seguiremo, ma la meta è una sola, essere padroni a casa propria, perché noi non ce la sentiamo e non possiamo tradire un giuramento sacro fatto il 15 settembre del 1996. Grazie.